Ciao bambini, bentrovati a una nuova giornata scolastica di Io sono Lulù. In questa giornata vedremo delle cose molto belle, interessanti, particolari, ma soprattutto vedremo lei, Lulù. Ciao. Che c'hai? Sono tristettorista, arrabbiatissima. Arrabbiatissima? Eh sì. Ma perché? Che cosa è successo? Non te lo voglio dire. Allora facciamo una cosa, Lulù. Intanto ti tiro su con una letterina che è arrivata per te. Mi hanno scritto una letterina? Sì. Ma che bello. Si l'ha scritta il tuo amico. Ah. Ma che bello subito? Sì. Cara Lulù, sono Mattia, un bambino di sette anni e frequento la seconda elementare. Io so che tu hai tre anni, è vero? Sì, c'ho tre anni, sì, sì. E sei una bambina capricciosa come mia sorella Ludovica, che anche io chiamo Lulù come te. Ma non sono capricciosa. Ma vabbè. Le femmine sono tutte complicate e vanitose e vogliono sempre avere ragione come fai anche tu in trasmissione. Eh, eh. Ha capito tutto questo bambino, eh. Grazie. No, 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 sto scherzando. Sto scherzando, sei bravissima e sei bellissima. Grazie. Comunque io in classe gioco più con le femmine che con i maschi, perché sono più simpatiche e mi fanno divertire. Eh, sì. Cara Lulù, mi piace molto il tuo programma e ti vedo sempre. Sei molto originale e somigli molto ai Muppets. Ciao da Mattia. Grazie Mattia, una lettera bella, bella, bella. E c'è anche un PS, post scritto, sei molto bella. Sì, grazie. Hai visto, anche un complimento. Sì, sì, ma in effetti non sono bella, sono bellissima, vi ringrazio. Adesso mi dici che cosa c'hai, che cosa ti è successo, perché sei arrabbiata? Allora, c'è quel bimbo che ha problemi con la sorrellina. Sì, Ludovica. E lui ha un problema col fratellino, quello grande, Lolo. Lolo. Perché tu sai che io sono l'uno la più piccola. E poi c'è Lola. Lola. Poi c'è Lene e Lolo è il più grande dei fratellini miei. Allora, praticamente voglio fare i giochi che fa lui il basket. Vuoi giocare a basket? E non mi fa giocare. E vabbè, ma certo, ma giustamente ognuno ha il gioco. Ma come giustamente? Legato alla sua età, no? Cioè? Tu hai tre anni e hai i giochi da tre anni. Perché? Lui è un po' più grande e hai i giochi da grandi. Ma scusami Lulù, tu giocheresti con me, non so, a scacchi? No, è grande. Vedi, perché è un gioco da grande. Però potete fare questo. Cosa? Con tuo fratello, per cercare un po' di condividere un po' questi giochi così. Intanto, fattelo simpatico. Dagli metà della tua merendina. Che cosa? No, vabbè, insomma. La merendina? Ma sì. Ma sì. Perché se viene da un po' di metà della metà? Eh no, vabbè, ma un pochino... E se gli faccio un disegno? Se gli fai un disegno, bravo, una bellissima idea il disegno. E a proposito, facciamo vedere il disegno che ti ha mandato la tua amica Francesca. Eccolo qua. Che bello. Allora, questa è lei. Sì. Questa è Francesca. E questa è la sua mamma. E il suo fratello e la sua sorellina. Hai visto una famiglia grande come la tua? Grande, grande, con tanti fratellini. Ma che bello. Va bene. Allora mi metto a disegnare per il mio fratellino. Brava. E anche voi, bambini, fateli disegni e mandatecile a Teleponte, via Potitorandi, 8, 64 100 Teramo. O anche mandateci la mail amicidilunupiocciolagmail.com Eh, Lulu, fai la brava, mamma mia, ok. È bene. Bene, allora siamo pronti, Lulu? Perché questa sarà una bellissima giornata scolastica. E vai con la campanella. Sì. E farò un disegno. Sì, sì. Eccoci, bambini. Ciao, fatta giocosa. Ciao, maestro. Sì, tornato con noi. Eh, sì, sì, sì. Benissimo. Io sono venuto però per un motivo. Dimmi, dimmi. Per dirti che oggi, Lulu, diciamo... Sì, sono molto alla bianca. Ciao, Lulu. Ciao, fattina bella, bella. E no, che prima con mio fratello. Sì. Poi stamattina, devi sapere, non riuscivo a trovare uno dei miei calzini rosa. Ah, sì. E sono arrabbiatissima, vabbè, comunque non importa. Cosa ci fai? Che fine ha fatto il calzino di Lulu? Ah, addirittura, addirittura. Sì, non lo so. Allora, la verità, carissima Lulu e maestro Stefano, è che ti ricordi che io vivo in quella casa in mezzo al bosco di colore arancione, bellissima. È bellissima. Sì, con tanti alberi. Poi in questo periodo devi vedere tutto arancione, tutti i colori dell'autunno. Meravigliosa. Comunque, mentre stavo facendo le pulizie, a un certo punto, in un angolo della casa, vicino al caminetto, ho trovato un calzino rosa. Ah! No! È il calzino di Lulu! Tutu, ma è tu allora questo calzino? Lulu, calma, calma. Ma sai che io ho tanti amici che stanno nel bosco. È stato un coniglietto? Probabilmente è stato un coniglietto, sì, oppure uno scogliattolo, un topolino di quelli magici. Comunque, allora ho trovato questo calzino e ho pensato, ma è un calzino rosa, proprio come piace a Lulu. Sì, è mio! Siccome sempre l'uccellino mi ha detto che tu oggi eri un po' nervosetta, allora ho pensato di farti un regalo per la scuola. Ah, sì! Va bene? Sì! Ho pensato, magari, ti ricordi che alla prima puntata abbiamo fatto quella targhetta dove ogni bambino, anche tu, hai scritto il tuo nome? Sì! Che bella! Allora ho pensato che potevamo aggiungere un meraviglioso portapenne, un portacolori, un portamatite. Ti piace l'idea? Che bellissima idea! È bellissima! È bellissima! Come si fa? Allora, iniziamo a vedere i materiali che possiamo utilizzare e che troviamo in casa. Sì! Allora, per questa volta abbiamo pensato, ho pensato di non usare né scotch, né colla, nulla. Sì! Allora, prendiamo un po' di carta che troviamo sempre, che troviamo dappertutto la carta, è vero? Sì! buona! E poi un nastrino. Sì! Allora, iniziamo subito. Arrotoliamo la carta, facciamo un serpentino, come se fosse un serpente. Ma se il calzino puzza un po', va bene? Il calzino puzza un po', ci mettiamo un po' di lavanda, che dice? Andiamo a raccogliere un po' di fiori profumati. Ma solo che puoi parlare così. Maestro Stefano, ma è bravissima questa faccina. Sì, è bravissima. Ma è un'interruzione per tutto. È certo, Lulù. Siamo nei bossi. Sì, sì. Allora, dopo che abbiamo rotolato. Sì. Allora, dopo che abbiamo rotolato, mettiamo il nostro serpentone nel calzino, proprio come se fosse un piede. Sì, è facile. È facile e creiamo la forma del piedino di Lulù, che piccolino. Perché tu hai, quanti anni hai, Lulù? Ma c'è tre anni, tre anni. E c'è tre anni, quindi tre di piede. Tre di piede. No, no, diciamo... Allora, una volta che abbiamo rotolato la carta nel calzino, prendiamo il barattolo. Sì. Ok? Una volta preso il barattolo, mettiamo anche il barattolo dentro il calzino. Ma non è difficile. Non è difficile. E così lo ricopriamo. Ma che bello è bello. Allora, adesso la parte superiore, che sta sul calzino, lo andiamo ad incastrare, a mettere dentro il nostro bicchierino. Bene. Ok? E lo possiamo rendere ancora più magico con l'aggiunta di un nastrino, che diventa un chiocco. Ma è bellissimo. Ma lo potete fare voi? Praticamente rubate un... Rubate un... Rubate un... No, rubare no. Prendiamo un calzino... In prestito. In prestito. In prestito. O che non utilizziamo. Prendi un calzino e glielo prendi là dove è steso il calzino. No, no, non devi rubare. Oppure lo puoi prendere al tuo fratellino. Eh, sì. Allora, no, sì. No, 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 che già, insomma... Allora, e guarda che adesso possiamo metterci i colori e lo possiamo poggiare sopra il tuo comodino portapenne. No, o strivania. Ti piace, Lulù? È bello, lo mettiamo vicino. È bello, perché c'è il maestro Bob e il maestro Mariano. Quando fanno le interrogazioni, hanno il loro portapenne e io che ne ho anch'io. E certo, questo è un regalo per te. Ciao, bimbi! Ciao! Alla prossima! Ciao, Lulù! Che prima gioca e poi si riposa! Ciao, bimbi! Ciao, Lulù! Ciao, bambini! Ciao! Ciao, bentornati, bambini! E la campanella, perché questa è l'ora dell'interrogazione. Esatto, Lulù, è l'ora dell'interrogazione. Senti, maestro Bob, è il maestro Mariano, ma chi interroghiamo oggi? Una persona importante, lo dirà il maestro Bobo. Oggi interroghiamo uno store manager. E? Cos'è lo store? Lo store manager vuol dire è una persona che dirige un grosso negozio. E chi è? Ecco, noi, Luca Di Sante. Ciao, Luca! Ecco, Luca, benvenuto! Ciao, ciao! Ma che piacere! È il piacere pure mio. Praticamente tu sei uno dei giovani industriali, fammi capire così, insomma. Giovane, giovane, non direi. Diciamo di una mezza età. Eh, ma tu sei più giovane di questi due maestri che sono un po' tardoni, eh? Eh, vabbè, ma i prof sono i prof. Lulù, sempre le solite, eh? Ce l'hai sempre che il professore. Salve prof, salve prof. Possiamo fare la prima domanda, la posso fare io? Però sai, guardando la faccia di questo bimbo un po' cresciuto? Mi sa che era birichino a scuola. E infatti la prima domanda è proprio questa. Sì. Luca, che alunno eri? Ahia, questa è una domanda difficile. E diciamo che io facevo parte di una classe dove erano tutti un pochettino terribili, si può dire, e io facevo parte di quelli, ero un pochettino discolo. Che belle, bellissimo! Avevi le note in classe allora? Eh sì. Che fantastico! Vai molto d'accordo con Lulù allora. Sì, sì, sì. Hai detto qualche volta la bugia dell'insegnante che non l'hai potuta studiare perché non lo so, ce l'ha. Un'anchezza. Non ho mai detto una bugia a nessun insegnante in vita mia. Vai! Che Pinocchio, che Pinocchio! Vediamo un po' i giorni nostri, Luca. Sì, prof. Allora, mi sono informato un pochettino. Ah! Tu hai puntato in un momento di crisi del mercato, del commercio, così come dicono tutti, su stile e innovazione. La tua scelta? Allora, la mia scelta è questa. Come dicevate prima, io ho 36 anni, sono nato nel 79. Ed effettivamente, sin da quegli anni, in Italia, si parlava di crisi e ce lo ricordiamo tutti. Crisi, 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 crisi. Sembra che in Italia un momento normale non ci sia mai stato, in realtà. Quindi forse quelli della mia generazione sono nati e sono cresciuti con questa parola, la crisi. E forse, forse, la mia generazione è quella che è stata più preparata a poterla affrontare, questa crisi, quando poi realmente è arrivata. Affrontare la crisi cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente tirare fuori delle idee, delle innovazioni e non stare lì a pensare che i risultati possono venire dalla fortuna. Perché la fortuna ti aiuta se tu la cerchi, effettivamente. Il capitolo, bravo, bravo. Praticamente quando il mio fratellino mi frega i biscotti, non ce l'ho più, nella mia, nel mia, come si chiama? Lo zaino? Lo zaino, la tazza. La tazza. Ecco, praticamente io piango ma dopo un po' trovo la soluzione. Vado in cucina e ne prendo altri biscotti, è così. Ma questa è una grande soluzione, bravo. Ma sono intelligente. Essendo Lulù ed io molto curiosi... È così, tre anni. Sì, c'è tre anni, mi porta bene, vero? Caspita, te ne davo quattro. Eh, Lulù, adesso gli faccio la domanda come vuoi di tu. Essendo io e Lulù molto curiosi, prima di questa interrogazione, te l'ho detto, ci siamo un po' informati. E presso i tuoi collaboratori, la cosa che mi ha colpito, te lo devo dire francamente, è che tutti ti chiamano il manager sorriso. Ti prendono in giro? Oppure c'è qualcosa di reale? Ma la vita va presa con sorriso, quindi probabilmente un fondo di verità ci sarà pure. L'ottimismo è una cosa molto importante. Io lo dico ai bambini perché, bambini veramente, capite per prima questa cosa. L'ottimismo è fondamentale. Un buon sorriso vi aiuta sicuramente a affrontare una cattiva giornata, una cattiva notizia. è l'ingrediente che serve sempre per affrontare i problemi ai momenti un pochettino più difficili. Anche quando non avete studiato, no? Un bel sorriso al prof. Eh, prof. Allora praticamente se ti può aiutare. Bimba, allora praticamente quando io prendo un brutto voto a scuola, vado a casa con un grande sorriso e glielo dico ai miei genitori. Ho preso tre, ma glielo dico con un grande sorriso e lo salvo tutto. Beh, ti posso dire che non sarà una strategia meravigliosa, ma è una strategia. No, no, assolutamente sì. Luca, bisogna studiare però, attenzione. Eh, beh, bisogna studiare, è importante. Caro Luca, hai portato qualche foto? Vediamo se la regia ci manda qualche sua foto. Eccola qui. Oh, che bello. Vediamo, vediamo Lulù se riconosci dove è il nostro amico Luca. E per me è quello in alto, in alto, in alto a sinistra. Quale sei Luca? Allora, quello in alto, in alto a sinistra. A destra, però, però quel bambino lì mi assomiglia. È vero, hai ragione, hai ragione. Qui dove eri Luca? Quanti anni avevi? Eh, qui credo fra i sei, sette anni. Immagino era una recita scolastica bellissima, veramente. Guardi l'altra foto, ce l'abbiamo? Recitavi? Eh, sì. Però insieme agli altri bambini, però... Questa la voglio commentare insieme a te, Lulù. Eh, niente, questa è la foto dei cugini di campagna, quindi penso che... E tu eri uno dei cugini? Io ero uno dei cugini, ovviamente, quello più, più bruttarello, però vabbè. Vediamo, abbiamo qualche altra foto? Eccolo qua, qua il gruppo di amici cresciutelli. Sì, 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 sì. È in materia di scuola, lì sì, è il giorno della mia laurea, no? Ah, beh, beh. Però in quella foto sono presenti i miei compagni delle scuole superiori e qualcuno anche delle medie. Ah, direttore. Perché se a scuola tu sei un bravo bambino, ti fai anche dei bravi amici e questi amici io li ho ancora. E sono un grande tesoro. Molto bello, molto bello. Sono un grande tesoro. Qualche altre foto? Un applauso, vediamo se c'è qualche altra foto, se no vado io con una bella domanda. Ma le foto con la fidanzata non c'è? E la foto con la fidanzata è un po' difficile, perché la fidanzata di allora non è mia moglie, quindi meglio evitare. Bene Luca, allora hai parlato di scuola. Quali erano le tue materie preferite a scuola? Di materie preferite? Spero matematica, spero, spero matematica. Troppo, tu sei un veggente. Ecco, vedi, è un veggente. Vedi, 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 matematica, matematica. Finalmente il professore Mariano ne ha trovato uno, eh? Uno, sì, ne ha trovato. Bene, bene. Poi, qualche altra materia? Perché comunque ho fatto il liceo scientifico. Nel liceo scientifico una delle materie principali, oltre purtroppo al latino, è appunto matematica. Bene, bene. 5 per 5? 25. Bravissimo, è proprio bravo, da complimenti. E' bravo, maestro Bob. Lulù, due più uno, Lulù? E' tre. Ah, come lo sa. Maestro Bobo, gli facciamo un'altra bella domanda. Gli facciamo un'altra domanda. Gli facciamo un'altra domanda. Allora, so che hai avuto delle velleità da DJ in gioventù. Le abbiamo del tutto nascoste o le portiamo ancora un po' nel cuore? La musica te la porti dentro sempre. Non va via mai. Probabilmente con la musica ci nasci già e poi non puoi mai abbandonarla. Quindi sì, è vero. Io ho fatto il DJ per diversi anni, con passione. Ho suonato in tantissime discoteche in Abruzzo. Mi sono divertito tantissimo e adesso lo faccio a casa. Avevi anche il nome d'arte? Avevi il tuo nome d'arte? Non avevo... Allora... Luca DJ? Prof hai ragione. Era il periodo triste dei nomi d'arte, no? E allora io ho voluto invece distinguermi un attimo utilizzando il mio reale nome e cognome. Anche perché grazie a quello poi i miei amici venivano sapendo che suonavo. Invece Luca DJ sarebbe stato... Chissà chi è questo Luca. Senti Luca, visto che siamo quasi alla conclusione e ti dobbiamo dare anche il voto, hai una tua favola preferita quando eri piccolino? Una bella favola. Una bella favola. Ah, la bella addormentata nel bosco. Oh, è bellissima, sì. Ma cosa dici Lulù? La devi raccontare? Sì. È un po' difficile. Finisce bene, comunque si sposano e rinamorano. Molto bene. Lulù, Lulù, visto che stiamo in conclusione e poi c'è la fata che racconterà una favola di Lulù, dobbiamo chiedere al maestro Bobo se è promosso il nostro caro amico Luca. Allora, come sempre non mi lasciate solo a me a decidere. Per me è ammesso. Per me è ammesso. Per me è ammesso perché insomma i radiscoli mi piacciono tanto, tanto, tanto. Come sempre noi salutiamo i nostri ospiti con una piccola caricatura che regaliamo, visto le velleità di Luca come DJ, il manager che abbandona la cravata per la cuffia, mi sembra una cosa carina. Lulù, non ti passo davanti. Allora, prima di concludere, lo diciamo? Bellissimo. Luca è ammesso. Grazie. Ciao, bambini. Ciao. Una favola per Lulù. Ciao. Ciao. Ciao, bambini. Ciao, Lulù. Ciao, fattina bella. Sei la fata dei sogni fantastici. Sì, io sono fata Fatulla. Sì. E oggi vi voglio raccontare una bella favola. E anche a te, Lulù. Ciao. Sai come si chiama quella di oggi? Sì, che cosa? Come? Il vento e il sole. Inizio, cara? Sì. Un giorno, il vento e il sole cominciarono a litigare. Il vento sosteneva di essere il più forte e a sua volta il sole diceva di essere la forza più grande della Terra. Alla fine, decisero di fare una prova. Videro un viandante che stava camminando lungo un sentiero e decisero... Sì? Sì, è il viandante? Il viandante è una persona che cammina da solo. che stava camminando lungo un sentiero e decisero che il più forte sarebbe stato colui che sarebbe riuscito a togliergli i vestiti. Il vento così si mise all'opera, cominciò a soffiare, a soffiare, ma il risultato fu che il viandante si avvolgeva sempre più nel suo mantello. Il vento allora soffiò ancora con più forza e l'uomo chinando la testa si avvolse la sciarpa attorno al collo. Sì, è perfetto. Esatto. Fu quindi la volta del sole che, cacciando via le nubi, cominciò a splendere tiepidamente. Vuol dire un pochino, non tanto caldo. Ah! L'uomo che era arrivato nella prossimità di un ponte, cominciò pian piano a togliersi il mantello. Il sole, molto soddisfatto, intensificò il calore dei suoi raggi, fino a farli diventare incandescenti. Faceva caldo, quindi? Tantissimo, Lulù, come se fosse ferragosto. L'uomo, rosso per il gran caldo, guardò le acque del fiume e, senza esitare, si tuffò. Il sole, alto nel cielo, rideva, rideva, rideva. Il vento, invece, deluso e vinto, si nascose in un luogo lontano. Bene, la morale è questa. Per ottenere collaborazione dalle persone, chiedilo con gentilezza. Ah, allora, per mio fratello Lulù, che sono un po' arrabbiata con lui, se voglio una cosa, li devo chiedere con gentilezza. Certo, per favore, per piacere, grazie, per cortesia. Ah, si ottiene tutto. Grazie, fattina bella. Grazie a te, Lulù. Ciao, bambini. Alla prossima. Ciao, bello, 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 bello. Ciao, amici. Ciao, bambini. Ciao, va, è il momento della lezione del canto. Ho preso una lezione di canto, eh. Eh, sì? Veramente? Sì, sì, sì. Allora, prova a cantare, Lulù, dai. Sì, hai detto che l'altra volta la bambina canta le tagliatelle, e la canto anch'io. Vai, dai, dai. La taglia donna di Santa Cina. Sì, è proprio bravissima, eh. Mamma mia, maestro Stefano, oddio, le orecchie, oddio, oddio. Cosa ti ha fatto? No, 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 è sempre mia, mia. C'è un altro bimbo che canta oggi. Eh, sì, oggi c'è un altro bimbo. Pensa, viene da Giulianova. Eh, da Bruzzo. Sì, sì, qui vicino. Si chiama Mattia Taverniti. Eh, Mattia! Vieni, vieni, Mattia. Ciao, ciao, ciao. E batti i cinque con la mia mamma. Batti i cinque, batti i cinque. Batti i cinque. Allora, Mattia, pensa che Lulù ha tre anni. Tre anni. Quanti anni hai? Sette. Sette anni è grande. È grande. Ma come vai a scuola? Bene, bene? Bene. Ti piace? Sì. La matematica ti piace? Non tanto. Ah, una più una? Ai, ai, ai. Una più una? Due. È bravissimo. Eh, ma io se non è bravo. Ma io se è più bravo del maestro, Mariano, che fa matematica, me la capisce niente. E l'italiano? Eh. È abbastanza, eh. Senti, ma ce l'hai un compagnuccio tanto bravo che ti fa copiare? O tu fai copiare a lui? No? Non si può dire, non si può dire. Ah, ecco. È bellissimo, è tanto carino, stai pensando cosa ti canta. Che cosa canti, Mattia? La canzone di Rino Gaetano, io ci sto. Bellissima. Bellissima questa canzone. Sentiamola. Allora, chiediamo alla regia di mandare la musica. La musica. Eccola. 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 Però, mi guardo intorno per un po', e mi accorgo che son solo. A me fonda è bella, però. È la mia età e io ci sto. Mi dicono in America, tutte rinco, tutte nuove, salire in telefono, sigarette a cieli e fatti uova. Io cercherò che ro, al bar ne impedrò. Cerco una bandiera diversa, senza sangue, senza sangue, senza testa, ma ci ripenso, però. Mi guardo intorno per un po', e mi accorgo che son solo. Ma i fonda è bella, però. E' il mio paese, e io ci sto. E' bravissimo! Bravo Mattia! Facciamo un applauso a Mattia! Bravissimo! E' bravo! Ma con quanto sei bravo? Ma vai a scuola di canto? No. E' bravo proprio! Però ti piace cantare, mi piace cantare. Senti, ci vuoi ricordare la tua scuola come si chiama? A Giulianova? Zona Orti. Ah, zona Orti. E la tua maestra chi è? La maestra Paola, quella di italiano. Oh, maestra Paola, ciao, complimenti! Vuoi salutare anche i tuoi amici di scuola? No. No? No, ma tu ti... Ma perché non li salutiamo? Cos'è successo? Ti hanno fatto arrabbiare? No. E perché non li vuoi salutare? E vabbè, poi li vede domani, domani. Ma perché io sono 3 anni, lo devo sapere, perché? Perché sono tanti. Sì. E allora ricordarsi il nome di uno, due, tanti. Bene, bene, bene. Grazie, sei stato fantastico, bravo, bravo. Allora... Vogliamo ricordare i maestri? Sì, sì. Perché vuole venire a cantare come luta bravo, bravo? Cosa bisogna fare? Certo, cari. Voi dovete scriverci via email a amicidilulucchiocciolagmail.com Mandate un'email come l'ha fatto qui il bravo Mattia e noi vi portiamo qui a cantare insieme a noi. Intanto vogliamo salutare Mattia. Ciao, Mattia! Perché sta finendo l'ora. Ciao, Mattia! Ciao, Mattia! Torno a trovarci! Ciao a tutti e alla prossima con Io canto con Lulu! Ciao! 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 Ciao, bambini! Ciao, bimbi bentornati! Continuiamo con l'interrogazione. Pensa, Lulu, adesso interroghiamo un bambino... Sì? ...che è il sindaco di Teramo. Dai, vedi la tente! Pensa che ha il suo secondo mandato... È bravo, vuol dire! Addirittura è un chirurgo dell'ospedale, è sposato! Ha sposato bene! E ha due bambini? Bello! Allora presentiamo... Lo presentiamo? Sì! Il dottor... Sì! Maurizio... Sì! Brucchi! Grande! Ciao! Maurizio, prego, accomodati! Sindaco, buongiorno! Grazie, grazie, grazie! Venuti nella mia classe, che emozione! Qui ci diamo tutti del tuo, eh! Ciao, Lulu! Sì, non ci sono titoli! Ciao, ciao, sindaco, bimbo! Allora, possiamo iniziare con le domande? Che dici? Maestro Mariano, prego, dai! Vado io, vado io! Assolutamente sì! Facili! Sì, sì, sì! Sindaco, Teramo è una città per i bambini? A misura dei bambini? Secondo lei, eh? Sì, sì, certo, ci stiamo provando, ci stiamo provando, nel senso che l'anno scorso abbiamo inaugurato due nuovi parchi giochi, perché prima, insomma, quelli che c'erano erano un po' vecchi e quindi in due zone della città ci sono due parchi giochi, nuovi, moderni, secondo le nuove regole, c'è un bel parco fluviale, che, insomma, andrebbe mantenuto e manutenuto meglio, però le difficoltà, non ci sono i soldi, Lulu, ci sono pochi soldi. Ehi, ma il salvadannaio non ce l'avete, il salvadannaio? Eh, ce l'abbiamo, ma è sempre vuoto, perché c'ha un buco sotto e i soldi escono sempre da sotto. Ma chi l'ha fatto il buco? Eh, chi l'ha fatto? Il buco l'ha fatto un cattivone che sta a Roma, che si chiama Renzi. Lo conosci? Lo conosco, lo conosco, lo conosco, il bimbo, ne ha fatto che mi dira la mia che sono molto arrabbiata. Senti, sindaco, è molto bello quello che stai facendo per i bimbi, ma cosa facciamo per i bimbi, quelli che non riescono a pagare la mensa per mangiare? Ma guarda, quei bimbi che non riescono a pagare la mensa per mangiare e che hanno, i cui genitori hanno difficoltà economiche, gliela paghiamo noi. Bravo! Poi ci sono quei genitori un po' più discoletti, che i soldini ce l'hanno e che però si dimenticano. Eh no, questo non va bene, perché poi questo succede, che magari quando il bimbo, maestro Bob, senti un po', maestro Mariano, se c'è un bimbo che magari ha dei problemi, non ci sono più i soldi per lui perché ci sono questi genitori discoli. Non va bene! Il sindaco è molto corretto politicamente, io li chiamo furbetti che non pagano le mese e poi quelli che non pagano le mese fanno finire di mezzo anche tutti gli altri. L'ho detto io. No, ma lo dico anch'io e quindi noi abbiamo qualche maestra, abbiamo scritto, abbiamo messo un cartello ricordando ai genitori che la mensa va pagata. Se poi c'è qualche bambino che non la può pagare perché il genitore è in difficoltà economiche e sono magari, adesso ne sono un po' di più di qualche anno fa, i servizi sociali del comune pagano per lui, ma non abbiamo mai lasciato un solo bimbo senza un pasto. E questa è una bellissima, bravo! Senti un po', sindaco bimbo, mi piace tanto e tanto. Allora, io sono andato in vacanza a Pescara. Ho fatto il bagnetto con i miei amici, a certo punto mi sono riempita le bolle, tutto il faccino con le bolle. Come mai c'è un amico, tu il sindaco, che mi ha fatto bugia? Io sono arrabbiatissima perché è passato un poveriggio, è pronto a soccorso. Buona 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 buona, l'importante è che poi ti hanno guarito. Non si dicono le bugie. È vero, è vero, lui non si dicono le bugie, però io, quel sindaco, diciamo, è amico mio relativamente, insomma, anche perché... È un collega. È un collega, apparteniamo a due partiti diversi, per cui, però voglio dire, io sono certo che non l'ha fatto apposta. Magari sarà stata una dimenticanza, non lo so, insomma, è una superficialità che non andava fatta. No, perché io ho passato un pomeriggio in ospedale, perché il mare non è giusto, insomma. No, è vero, è vero, hai ragione. E poi il mare di Pescara è così bello, anche il mare di Giulianova, tutta la costa adriatica è bella. È molto bella, sì, hai proprio ragione. E no, perché poi gli altri bimbi a Milano dicono, ma lì c'è l'acqua sporca e non vengono più. E noi gli faremo capire che invece l'acqua dell'Adriatico è bella, pulita e ci si diverte tanto. Sì, 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 senti, sindaco, un'altra domanda. Ma c'è qualcuno che ti ha fatto arrabbiare in comune? Ma guarda, sono tanti i consiglieri che mi fanno arrabbiare, ma poi alla fine sono degli amici. Ma quando stiamo dentro la sala consigliare discutiamo, però poi finita il consiglio, e poi alla fine vogliamo tutti il bene di Teramo. Maestro Bobo, una bella domanda. La domanda del maestro Bobo me l'ha anticipata il nostro amico sindaco. Ecco, io mi ero immaginato di chiedergli chi è il cattivone, per far capire anche la nostra amica... Da virgolette però. ...nell'opposizione. Ma credo che mi abbia già risposto, credo che non ci dobbiamo ripetere. No, però possiamo aggiungere qualcosa. Il cattivone è quello che tutte le volte che vede un problema, invece di confrontarsi in consiglio comunale, nelle giuste sedi, decide sempre di andare in procura. E questo non va bene, perché poi vai oggi in procura, vai domani in procura, poi alla fine il procuratore non ci crede più. E c'è un consigliere che fa sempre così, però insomma, capiamolo. Ti ricordi la favola di Irino e Lupo, che continuano a dire al lupo, al lupo, poi quando poi c'era veramente qualcosa, nessuno gli ha più creduto. Una cosa del genere. Sì, sì, per questo momento è un po' arrabbiato, perché ha perso le elezioni. Perché lui si è candidato contro di me, e poi ha preso solo pochi voti, ed è molto arrabbiato per questo. E allora fa così. Ma non è giusto, perché io quando a scuola non so prendo un brutto voto, non vado bene e non me la prendo con quello che ha preso un bel voto. Motivo c'è! Ma io lo perdono, lo perdono. Va bene, lo perdoniamo. Bravo il sindaco. Vuoi fare tu una domanda, Lulù? Che vuoi fare? No, per ora falla tu. La faccio io? Sì. È stato qualche volta bocciato? Sì. No, mai bocciato. Mai bocciato. Era un secchione, così si chiamano. Facevi copiare? Mai... Sapevo anche copiare, certo. Ma tu facevi copiare? Perché facevo copiare gli altri? Sì. Certo, certo. Che bello, vedi che piace. Copiavo e facevo copiare, perché così se copi devi far copiare. Apprezzo un'estate il nostro amico sindaco. Però non sono mai stato bocciato, sono sempre stato promosso. All'esame di stato ho preso poco, ho preso 36, il minimo indispensabile. Però poi mi sono laureato, mi sono specializzato, ho fatto un master, perché sono senologo, mi occupo della patologia del seno. E quindi, come vedi, poi, insomma... Una cosa importantissima, Lu. Importantissima. E per l'interfemminuto è tanto, tanto. Ma senti, sindaco, noi bambini guardiamo tanta televisione. Troppa. E a volte sentiamo i politici che parlano. Eh, ma parlano sbagliando i verbi, ma come mai? Eh, questo può capitare. Può capitare a tutti. No, può capitare a tutti. Eh, ma loro fanno i politici, hanno studiato e ci rappresentano, eh? Eh, ma oggi non sempre in politica, diciamo, scendono in campo le persone giuste. Qualche volta la politica diventa anche uno strumento per portare lo stipendio a casa. E questo non va bene. No. Ecco perché io continuo a lavorare, Lulù, non l'ho mai smesso, per questo motivo. No, ma ecco perché tu sei brava e ti hanno votato due volte, vuol dire che ti vogliono bene. Bobo, però tu c'hai ancora speranza, eh? Che magari siete fatti di... Lulù, accidenti, non queste cose che ci sono in classe. Dai, dai, non litigate, non litigate. Domani in palestra sei mia, domani in palestra sei mia. Chiediamo, chiediamo al sindaco se ci ha portato qualche foto, eh? Oh, sì. Eccolo qui. Oh, che meraviglia. La racconti, sindaco? Ma la racconta in giro. Però vabbè, quella invece è la mia mamma, quella è mia sorella che è più grande di me, di 13 mesi, e quel pacioccone, insomma, più o meno come adesso. Non hai cambiato molto, no? No, più o meno come adesso, più o meno come adesso sono io. All'epoca senza capelli, eh? I capelli li ho persi all'università. Io per lì ce n'è una foto dove si vede quanti capelli avevo. Vediamo quest'altra foto. Questa è un'altra foto invece sempre con mamma, papà, mia sorella e io. Insomma, il cappotto è quasi più lungo di me, però questo è. Basta guardare l'autobus, questa foto avrà... Anni 60? Io sono del 60, sono del 1961, quella potrà... 74-65. Beh, abbiamo qualche altra foto? Vediamo un po'. Sì. Per lì i capelli ce l'avevo. Io dico sempre che per lì i capelli è una scelta di vita, quindi la facciamo correre così. Ma così è andata, perché poi è arrivato a un certo punto che i capelli erano pochi, erano radi, ce li avevo soltanto ai lati, e una mattina ho preso la lametta e ho fatto piazza pulita. E da allora non li ho più fatti crescere. Ecco, buonissimo, così non ti fai più la riga. Ma senti, a me sai che sono pettegolonna, sai, sono un amico a tre anni, ecco. Allora c'è qualche sindaco dell'Abruzzo, anche di un paesino piccolo, una città grande, che non ti sta simpatico? Che mi sta simpatico? Antipatico. Antipatico. No, sì, non lo posso dire. Dunque, dunque, dunque. Ho una bella simpatia con il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromau. No, Fabinia. Diciamo che ci vogliamo bene e siamo simpatici, io con lui e lui con me. Vuol dire che fate delle belle cose assieme, costruite delle belle cose. No, no, non costruiamo cose assieme, lui per lui e io per me, però ci siamo simpatici. Ci vogliamo bene, ogni tanto litighiamo, però poi alla fine... E poi vai al mare lì a Giulianova? No, 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 io vado al mare a Tortoreto. A Tortoreto, beh... E poi vai anche a Giulianova. Non ci vai a Giulianova perché il sindaco mi fa pagare il parcheggio quando parcheggio la macchina. Ecco, ecco, ecco. Sono amici, però gli fa pagare il parcheggio. Ma praticamente... Beh, allora vuol dire che fa il buon sindaco, il sindaco di Giulianova. E a Tortoreto invece il parcheggio non lo pago. E allora vado a Tortoreto. Ma cioè, dammi capire, cioè io al mare, vado al mare e devo pagare anche il parcheggio? Eh sì, il sindaco di Giulianova per fare cassa ha fatto così. Quando vai al mare parcheggi la macchina sul lungomare e devi pagare. È una famiglia felice. Ovviamente invitiamo il sindaco di Giulianova nei nostri studi a rispondere al nostro amico di Piero. È un dato di fatto, adesso vuole far pagare anche la tassa di soggiorno. Così non ci va più nessuno. Ma qua come nelle grandi città. Eh ma no, senti il sindaco di Giulianova, sindaco è Lulù che ti parla. Beh, non lo so se fai bene perché la gente non se la può permettere una vacanza. Allora fai una bella cosa. Non lo so, diminuisci lo stipendio dei politici e tagli. Lulù? Ma sto dicendo la mia, sono la mia. Sì, mangia un attimino la matita, un secondino che salutiamo il nostro amico. No, ma prima qualche altra domanda sulla scuola. Eh, caro sindaco, che materia aggiungeresti a scuola? Una materia così? Ma no, io direi che oggi la scuola è abbastanza completa. Insomma io vedo, vedo anche quello che fanno i miei figli, forse anche troppo completa. Ecco, vediamo intanto un'altra foto nel frattempo. Ecco, quelli sono diciamo abbastanza recente. Ecco, questi sono i miei figli. Quello è Filippo che ha otto anni e quello è Nicoletta che dicevo proprio, da qualche giorno ha deciso di cambiare scuola. Faceva l'europeo e adesso fa invece il linguistico. Perché l'europeo si esce due volte alle 5, il sabato si va fino alle 2. Ed è pesante. Allora io dico che insomma un ragazzo a quell'età ha bisogno anche secondo me di avere un po' più tempo libero. Però poi c'è la scelta. Uno sceglie una scuola piuttosto che un'altra. No, io direi che è completa. La scuola oggi è completa. Io non rimpiango le nostre, non rimpiango la nostra scuola, io non rimpiango le mie elementari dove c'era la maestra unica. Oggi invece ci sono un mare di maestre. Mio figlio non distingue. Invece c'era la maestra Sciarra, la storica maestra Sciarra che ci metteva dietro la lavagna con anche i ceci per terra, con la girato verso la lavagna, non ti potevi muovere. Però alla fine era una maestra sola. C'era un rapporto diverso. Però mi sembra che la scuola di oggi forma bene. Forma bene, però forse il problema è un altro. Che questi genitori, cioè o dopo la scuola gli fanno fare non ciannuoto e poi gli fanno fare ginnastica e dopo devono andare a fare le lingue. Questa è un po' la battaglia che Lulù ha intrapreso. I bambini devono fare i bambini. Devono avere tempo per stare con la mamma, col papà e con i nonni. Ma riempirli di impegni tutta la settimana obbliga questi bambini a diventare grandi troppo in fretta. Questa è la nostra battaglia. Sai Lulù che cosa ne penso? Che io l'anno scorso ho provato a fare la scuola il tempo ridotto, cioè a fare 5 giorni su 6. Perché ho detto bene, i bambini entrano un quarto d'ora prima, quelle delle elementari, escono un quarto d'ora più tardi e in mezz'ora recuperavamo l'orario del sabato. Che bello! Beh, ma abbiamo trovato delle barriere altissime Lulù. I genitori non hanno voluto far questo, la maggioranza. I consigli di istituto non hanno voluto questo. Io non dico una cattiveria, non sto zitto. E quindi abbiamo dovuto fare un passo indietro. Invece ho letto anche alcune relazioni di persone che studiano i comportamenti e dove c'era scritto che appunto invece è una cosa positiva. Perché il bambino interrompe il venerdì, il sabato sta più a casa con i genitori, ha due giorni interruzione e lunedì quando riprende c'è più entusiasmo. Io vedo la faccia di mio figlio Filippo quando va a scuola il sabato che c'è un musolo lungo così. Luca, ma 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 senti sindaco, ma non è niente niente che forse qualche genitore pensa che la scuola sia un po' come una babysitter. bene allora andiamo in conclusione allora io so che c'è una cosa che il nostro amico sindaco c'ha qua e cercato di riassumerla in questa vignetta che adesso dalla regia me la inquadrano vediamo 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 la faccia della bella del maestro bobo il sindaco espelle la lega calcio rivolgiamo il teramo in b dico giusto complimenti grazie 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 per la bella vignetta si è una cosa che è rimasta qui a tutti i teramani soltanto al sindaco perché insomma ti dico una cosa cattivera lui tutte le volte dell'asco li perde noi siamo contenti bene e ultimamente e ultimamente perde spesso questa volta questa volta il primo ad esprimersi sarà il maestro mariano il sindaco o non ammettere il sindaco per me è ammesso secondo me è molto ammesso assolutamente è difficile trovare dei politici che vengono in un programma per bambini grazie a te lui grazie per l'ammissione quando cominciano le frequenze anche da subito mi devo organizzare grazie 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 a voi r선 for maurizio brucchi grazie ciao 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 bambini eccoci di nuovo qui ma questo personale tutte quelle domande al sindaco è è stata terribile oggi la nostra Lulù ragazzi maestri fantastici Presidente Viviana benvenuta a proposito io non ho avuto modo di assistere all'interrogazione di quel bimbo ma sentivo la voce di una bimba che ha fatto delle domande spettacolari intelligenti ma chi è sta bimba della classe, della scuola non lo sapete Lulù amore, amore della maestra Viviana ma stai bene tutta posta tesoro ancora non parla ma riusciremo perché a volte quelli che parlavano poco poi sono diventati dei grandi giornalisti dei grandi politici dei grandi scienziati bravi bravi oggi abbiamo avuto dei belli ospiti abbiamo avuto delle belle interrogazioni è stato proprio bello maestri è pazzesco vedere che la voce di una bimba vi supera come domande questo non mi è piaciuto però pazienza vogliamo maestro Mariano ricordare dove mandare i disegni ma io più che altro vorrei ricordare la nostra email amici di lulù chiocciolagmail.com vabbè che dire oppure vogliamo anche ricordare l'indirizzo maestro Bobo mandate i vostri disegni a teleponte via potito randi 8 64 100 teramo va bene allora appuntamento perché per la prossima puntata in questa classe entreranno altri strepitosi alunni della politica dello sport e non solo io sono lulù ciao 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 bambini ciao 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 lulù ciao Grazie a tutti.